la eli michela dopo così mi mandi di nuovo grazie a tutti allora 824 come tutte le sere aspettiamo di superare gli 800 per partire quindi ci siamo buonasera a tutti diario di bordo giorno numero 47 8 aprile 2020 allora mentre aspettiamo che qualcun altro si colleghi partiamo con cose magari un po più quasi di ripasso rispetto ai dati che sono poi quelli che interessano e che arrivano alla fine oggi si è svolto il mercato quello grande quello di piazza campo del paglio dopo l'esperimento di lunedì con un banco e dopo l'esperimento in piazza campo del paglio dopo l'esperimento di ieri nella zona nord con sette banchi come avevo detto in via gozzano oggi abbiamo dedicato una superficie che è di circa un terzo dell'intera piazza a un mercato che aveva una trentina di banchi che era già un po più strutturato come abbiamo detto nei giorni scorsi grazie alla presenza costante della polizia municipale grazie all'ana che ha presidiato gli ingressi e ha fatto in modo che si entrasse soltanto se muniti di guanti o di mascherina e che ha consentito di entrare raggiunto il limite della capienza che noi abbiamo stabilito numero 78 persone interne alla piazza consentiva appunto di entrare solo nel momento in cui qualcuno usciva uno alla volta e quindi e nello stesso tempo due al massimo serviti attaccato ai banchi 78 persone non è detto che si distruiscono in modo uguale su tutti i banchi della piazza magari qualcuno ha bisogno di qualche cosa in specifico magari può capitare che in un determinato momento si concentrasse magari più clientela su un banco piuttosto che un altro e quindi oltre alla coda che si è formata all'esterno per poter entrare regolamentate a distanza si sono anche create delle code regolamentate e a distanza grazie alla collaborazione soprattutto degli ambulanti anche in piazza devo dire che sono molto soddisfatto di quello che è accaduto ringrazio della collaborazione tutti i cittadini che hanno capito tutti vuol dire la stragrande maggioranza quindi il caso singolo o i due con i quali sono potute venire fuori magari delle situazioni non piacevole non fanno veramente testo in una mattinata come quella che abbiamo vissuto questa mattina dalle 10 ci siamo collegati in diretta e il bello della diretta ho fatto volutamente la diretta proprio perché non mi si dicesse hai tagliato i filmati che non ti piacevano hai messo quelli che ti facevano comodo è capitato anche che fra le persone che abbiamo sentito in molti ringraziare in molti dire che erano molto contenti e molto soddisfatti c'è stata anche una persona che mi dice io non sono d'accordo a fare il mercato e c'è stato il mio stupore perché dico ma è in fila per un banco per comprare non è d'accordo non era d'accordo adesso è d'accordo no no non sono ancora d'accordo nel farlo ma perché è venuto al mercato perché ho fatto una commissione qua vicino già che ero qua probabilmente avrà avuto la macchina parcheggiata in piazza ho deciso di venire acquistare e quindi l'ho trasmesso in diretta proprio perché è giusto rispettare l'opinione di tutti e l'idea di tutti domani ci sarà un mercato di nuovo regionale in torretta questa volta alle ore 10 farò di nuovo una diretta per testimoniare anche quello che capita in quella parte di città più in generale dico gente contenta non mi ricordo un evento sinceramente dove tante persone mi siano venute vicino passando anche se con la mascherina dicendo grazie signor sindaco fa piacere perché oltre a quello che si è visto e che vedevo ti consente di andare avanti e di andare avanti nelle direzioni che noi abbiamo fin da sempre intrapreso quello di salvaguardare intanto la salute dei nostri concittadini questi mercati si sono riaperti non perché c'era una categoria che ce l'ha chiesto non per aiutare un qualcuno l'amico dell'amico ma perché si riteneva che con questa forma di acquisto si potesse maggiormente combattere oggi che ci sono le condizioni che siamo riusciti a cintare il mercato che siamo riusciti a prendere tutta una serie di provvedimenti e di richiedere i dispositivi di protezione per coloro che ci accedono eravamo convinti di poter prendere una scelta che potesse andare nella direzione giusta quindi non sono d'accordo con chi dice grazie a quei mercati che sono capitati in questi giorni fra 14 giorni si sarà la pandemia che si sviluppa in tutta la città io sono convinto che queste scelte andranno proprio in aiuto per cercare il contenimento dell'espansione del virus e detto questo persino una persona che era contraria al mercato e me lo ha detto oggi mi dice sì però se ci fossero anche dei banchi di abbigliamento sarebbe stato meglio quindi si passa a certe volte da un'esagerazione all'altra ma siamo fatti così oggi pomeriggio c'è stata un'importante conferenza in via telematica l'ho seguita dell'assessore regionale alla sanità Icardi per cercare di avere degli spunti da portarvi e i dati che ha dato e ha fornito sono dati confortanti sotto molti punti di vista anche se anche lui come faccio io tutte le sera ha richiamato tutti ad avere i piedi per terra e a leggere i dati per quello che sono ma a continuare a mantenere comportamenti virtuosi per consentire di andare avanti in questa direzione vi ricordo che la maggior parte delle epidemie che si sono viste in precedenza hanno sempre avuto un colpo di coda, hanno sempre avuto un ritorno e quindi abbassare la guardia nel momento in cui le cose stanno andando bene e si pensa che tutto si possa risolvere è l'errore più grande che si può fare per cui veramente vi invito a proseguire con i sacrifici che abbiamo fatto in questi giorni i dati confortanti sono relativamente alla crescita dei positivi che sembrano diminuire e soprattutto alla diminuzione l'avevamo già visto ieri nei numeri e ve l'ho detto anche nei giorni scorsi quando abbiamo commentato i dati che la ragione fornisce intorno alle 7.20 7.30 di tutte le sere e che noi leggiamo ormai ultimamente in diretta stanno calando i posti occupati in terapia intensiva e questa è la cosa più importante di tutti perché noi abbiamo bisogno di prevenire questa cosa di curare le persone che si ammalano di essere ancora più vicini a quelli che si aggravano e l'unico modo che abbiamo per essere più vicini per quelli che si aggravano e quindi anche se ci vorrà del tempo di curarli di farli uscire da questa brutta avventura è quella di avere le terapie intensive, di avere queste postazioni libere è il solito discorso che abbiamo sempre fatto e un conto è curare mille persone in più mesi un conto è avere mille persone che arrivano in una struttura ospedaliera con un problema in una settimana fino ad oggi ci siamo riusciti continuiamo così perché, l'abbiamo sempre detto è lì che si vince intanto la battaglia la cosa importante, e vi ho citato la conferenza stampa di Carti apposta è che ha citato Asti, ed è per me motivo di orgoglio motivo di orgoglio non per l'attività del sindaco ci mancherebbe ma per l'attività della nostra struttura ospedaliera e sono orgoglioso di aver sentito che Asti è stata citata come esempio sul come va condotta un'indagine epidemiologica e quindi grazie al SISP grazie alle indagini tempestive è vero, ci lamentiamo quando non si fanno i tamponi se ne fanno pochi, c'è gente che ha aspettato mettiamoci anche dall'altra parte immaginiamo che cosa vuol dire lo stress le difficoltà che nella struttura ospedaliera ci possono essere i mille problemi che ci possono essere queste persone stanno facendo tutto quello che possono anzi di più il cuore oltre l'ostacolo l'hanno già buttato da tempo non so più che cosa possono ancora buttare dall'altra parte sentire a livello regionale farci i complimenti alla nostra struttura per come è operato, per come è condotto però le indagini fa piacere e ci dice che se siamo in una situazione migliore rispetto a altri è perché vuol dire che qualcosa ha funzionato le indagini tempestive in sostanza hanno consentito di non far degenerare le situazioni a rischio e guardate che noi ne abbiamo avute perché se vi ricordate mentre tutti erano tranquilli pronti partenza via noi ci siamo trovati il problema di Alassio sia del turno di persone che erano già venute a casa e che quindi non sapendo che cosa avevano eventualmente contratto hanno condotto una vita abbastanza normale e sia le persone che abbiamo portato a casa dall'albergo dove erano rimasti per alcuni giorni in quarantena quindi tutte queste cose che potevano essere veramente pericolose e diffondersi sono state comunque se siamo qua oggi con questi numeri gestite molto bene relativamente ai tamponi ha poi ancora specificato e ricordato come ho sempre detto io che la regione Piemonte segue da sempre le indicazioni dell'Istituto Superiore della Sanità e oggi stanno per essere approvate da questi organismi sanitari i test esami sierologici questi a differenza del tampone che fa una fotografia dell'immediato e quindi premesso che non si può fare il tampone a 5 milioni di abitanti della regione Piemonte e a tutti quanti assieme ma il tampone al limite è vero serviti della tranquillità in quel momento ma al limite di fare una fotografia precisa di quell'attimo cosa che non potrebbe essere il giorno dopo o che non potrebbe essere nei giorni successivi così come non ti consente di aver dei dati a ricostruire che cosa è stato invece in precedenza un test invece sierologico ti dà tutta una serie di informazioni e indicazioni che sono importanti i medici per lavoro che fanno e che consentono eventualmente di capire se addirittura tu magari l'hai avuto e sei guarito quindi importante anche questo passo in avanti che come regione stiamo facendo torno sul tema delle case di riposo l'abbiamo citato ieri lo sentiamo sempre più sovente alla televisione lo sentiamo sovente anche ai telegiornali regionali il MAINA la casa di riposo città di Asti ha avuto in tutto questo periodo un caso positivo un caso che è recente e che è stato dalla struttura gestito al meglio una serie di persone mi pare che sono quattro sono state isolate in un reparto ad hoc era quel reparto che la casa di riposo città di Asti aveva messo a disposizione della nostra ASL per ospitare eventualmente quei malati in via di guarigione che dovevano ancora stare alcuni giorni in quarantena prima di tornare a casa quindi in attesa di fare i due test tamponi che ti dicono che effettivamente sei guarito ora invece di metterlo a disposizione dell'ASL saranno dedicati a gestire questa situazione che ripeto è capitata ma non è di emergenza e sta e viene seguita quindi un caso positivo che mi segnalano non avere gravi sintomi non aver bisogno della ventilazione e quattro persone che in modo precauzionale si sono isolate in un apposito reparto proprio perché nel caso non si possa diffondere alcunché il commissario mi ha spiegato tutto quello che stanno facendo ritengo che bisogna fare di tutto affinché la nostra casa di riposo e quindi eventualmente sentirò anche la regione ma poi vi dirò anche un'altra cosa possa dotare la nostra casa di riposo e ma in generale tutte le case di riposo del Piemonte di personale il mando che la regione ha fatto per cercare dei medici per gli ospedali ha rischiato di far sì che alcuni venissero via dalle case di riposo per usufruire di quella opportunità la regione poi come mi ha confermato il commissario questa mattina ha interrotto questa procedura l'asle di Asti ha interrotto la procedura per non spopolare di forza lavoro le nostre case di riposo ma è necessario che siano dotate di di numeri diversi ecco di maggiore personale a riguardo ho letto che la regione attraverso l'unità di crisi ha aperto un nuovo bando che è stato pubblicato sul sito della regione proprio per ricercare personale per le strutture residenziali per gli anziani di tutta la regione Piemonte è lì che faremo che si combatterà la seconda parte della battaglia abbiamo sempre detto noi abbiamo bisogno che regga il nostro ospedale che i nostri medici i nostri infermieri e tutto il personale possa operare con i dispositivi di protezione individuali che servono non devono essere abbandonati oggi io ritengo di poter dire che se c'è sarà un secondo luogo di battaglia sarà nelle nostre case di riposo in tutte le strutture non solo dalla nostra regione ma noi guardiamo dalla nostra provincia alla nostra città e quindi siamo convinti che si farà di tutto e che tutti faranno di tutto per far sì che in queste strutture non avvengono problemi e che non capitano purtroppo disgrazie come abbiamo visto che è capitare da altre parti magari colte la sprovvista all'improvviso magari non preparati credo che noi siamo preparati credo che si farà tutto quello che c'è da fare in questo momento in questo momento non c'è una situazione ho dato questa notizia del positivo perché voglio dare in questo momento tranquillità e serenità alle persone che sentono perché basta semplicemente che qualche pistolotto domani metta un po' più di enfasi su un positivo alla casa di riposo città di Asti per magari dopo tre passaggi farla arrivare come una notizia di un problema che in questo momento non è grazie ancora una volta a tutto il personale al commissario il direttore della nostra casa di riposo per l'attività che stanno svolgendo per appunto evitare problematiche vi ricordate sì che avevo citato qualche sera fa già forse due settimane fa un'iniziativa dell'ARPA Piemonte per produrre i disinfettanti oggi ci comunicano dalla ragione che i laboratori dell'ARPA Piemonte hanno prodotto 8 tonnellate di gel igienizzante destinato a forze dell'ordine e personale sanitario si parla di 4062 litri già consegnati e altri che stanno per essere consegnati quindi il Piemonte che si rimbocca le maniche istituzioni e aziende che laddove non ci sono dei materiali decidono di produrli per metterli a disposizione relativamente all'ordinanza di Pasqua e Pasquetta della chiusura ieri ho dato alcune specifiche in più a determinati avevo ricevuto delle domande da giornalai tabaccai relativamente ai tabaccai avevo parlato della chiusura della chiusura di domenica e di lunedì un lettore giustamente ha fatto presente ma ci sono i distributori automatici ebbene se la filosofia della chiusura è togliere ogni scusa immaginabile alle persone di uscire di casa in questi due giorni di festa e quindi per chiedergli l'ultimo sforzo di stare a casa non faccio di sicuro tenere aperto i distributori automatici in quanto il pretesto di uscire rimarrebbe e quindi per andare al distributore automatico tanto vale che si vada la tabaccheria aperta per cui comunico a tutti fatelo sapere ai fumatori che le tabaccherie per chiuse si intendono chiuse non funzioneranno i distributori automatici il pacchetto di sigarette in più la scorta la potrete fare il venerdì il sabato e se finirete le sigarette ci rivediamo poi martedì quindi signori domenica e lunedì non ci sono scuse non si va a fare la spesa perché non si va a prendere le sigarette vi si toglie un po' di scuse per uscire di casa mi scuso con voi ma ritengo che questo sia importante in questo momento sia quell'ultimo colpo che sono convinto si debba dare per fare la differenza oggi nei prossimi giorni ci diranno questa parte B questo secondo periodo come si svilupperà si parla di riprese graduali ad oggi non ne sappiamo ancora nulla e noi non sapendo ancora che cosa si pensa dall'alto prima che ce lo facciano sapere cerchiamo di gestirci di prendere le decisioni le più ragionate possibili quelle che riteniamo che possono portare i migliori risultati possibili per la nostra comunità allora anziché una storia vi racconto questa sera un detto orientale cinese che dice i quattro angoli della terra hanno un solo cuore quando si imbattono nelle stesse avversità perché vi racconto questa storiella perché questa è la dicitura che ho letto su molte scatole che l'assessore ai lavori pubblici Stefania Morra con tutti i suoi uomini è andata a ritirare all'aeroporto di Malpensa sono scatole che contengono mascherine per un totale di 10.000 che ci sono state regalate dagli amici di Nanyang una città con cui noi abbiamo relazioni una città che io ero andato a visitare quando sono andato in Cina quella città per la quale per il cui ospedale avevo fatto l'appello quando noi non sapevamo neanche ancora che cos'era il coronavirus e la vedevamo delle catastrofi io avevo scritto il console era rimasto anche impressionato per come mi ero mosso per sensibilizzare l'opinione pubblica ecco questa città non ci ha dimenticato ci ha mandato 10.000 mascherine è stata una battaglia in questi giorni con la dogana per sdoganare mille cose burocratiche sono finalmente arrivati un migliaio li daremo alla mensa sociale che li distribuirà a quelle mille famiglie che ha in carico dona la spesa il progetto finanziato dagli astigiani per dare la spesa 25-30 euro a borsa a un migliaio di famiglie un migliaio li metteremo a disposizione dei servizi sociali che dalle prossime consegne consegneranno assieme ai buoni spesa con queste già due operazioni cerchiamo di raggiungere con le mascherine regalandole quelle fasce di popolazione più in difficoltà in questo momento che non possono comprarsene bisogna dire che ormai le farmacie molti punti vendita le hanno a disposizione non è più come alcune settimane fa sulle 8.000 che rimangono vedremo in che modo riuscirle a far arrivare alla popolazione allora io vi capisco tutti so che vorreste tutti che il comune vi fornisca la mascherina quello che vi prego di cercare di capire è che è diverso amministrare una città da 76.000 abitanti diverso amministrare un comune da 300 anime qualcuno mi scrive il sindaco di quel comune ha distribuito sì quando amministri un comune da 300 abitanti e ricevi 300 mascherine probabilmente riesci in una giornata a bussare la porta a tutti i tuoi concittadini e a fargli la felice sorpresa di dargli la mascherina noi non siamo in quella condizione noi abbiamo fatto fin dall'inizio una scelta che tutto il materiale che abbiamo avuto lo abbiamo messo a disposizione o dell'ASL perché abbiamo sempre detto che loro dovevano essere protetti avere le cose che consentivano di lavorare o altrimenti la disposizione dei volontari che ci aiutano a fare le cose che facciamo consegnare la spesa a chi ha bisogno andare a fare la spesa per l'anziano che non può piuttosto che in questi giorni distribuire i buoni piuttosto che controllare i mercati piuttosto che fare tutte queste altre cose oggi che ne sono arrivati un numero un po' più importante verificheremo nelle prossime ore se portiamo in un qualche modo a secondare le esigenze dei più partiamo dai più svantaggiati e man mano come abbiamo fatto per i contributi ci allarghiamo anche eventualmente agli altri quindi di Naniang abbiamo parlato andiamo un po' spediti che sono già arrivati i dati e dopo li commenteremo ho fatto un appello due giorni fa di dispositivi di protezione individuale in particolar modo le tute che potrebbero iniziare fra qualche giorno a mancare all'ASL e c'è difficoltà nel reperirle pensate che l'ASL ha chiesto dei preventivi si inizia a muovere non stanno fermi anche loro ci mancherebbe se riusciamo ad aiutarli ben venga loro stanno cercandosele una cosa che valeva un euro fino a poco fa l'ASL ha ricevuto un preventivo di 10 per dire come sta cambiando il mondo su alcuni alcuni beni allora io intanto ringrazio i tanti che chi con due chi con venti chi con sei chi con quattro hanno consentito di mettere insieme già un numero importante di tute e abbiamo già fatto una prima consegna all'ASL sulle tute usa e getta qualcuno nel frattempo ha anche portato delle mascherine FFP2 o FFP3 anche quelle potrebbero servire quindi la prima consegna è stata fatta noi continuiamo a raccogliere allora inutile che dica a 20 persone con due mascherine di andare all'ospedale perché creo 20 persone che vanno all'ospedale con tutti i rischi che ci sono dico a quelle 20 persone se vorranno darci chi 1 chi 5 chi 20 se avete di questi materiali consegnatelo alla polizia municipale come abbiamo fatto questa volta noi raccogliamo quando arriviamo a riempire uno scatolone bello grosso facciamo la consegna o chiediamo all'ASL che venga a ritirarle quindi servono ancora questi dispositivi soprattutto tute vi ringrazio allora al momento di ringraziamento adesso per l'opera che merita la menzione lo facciamo alla Maina organi di trasmissione SPA nelle persone di Francesca e Giancarla Maina credo che sia stata fra questi giorni la più importante donazione il più importante donazione e il più importante intervento a cui abbia assistito mi avevano contattato per capire che cosa poteva servire all'ospedale ho messo in contatto con la struttura dell'ASL ebbene non vi dico una cifra perché è inutile dire circa tutto l'intervento più importante in quanto sono riusciti da soli a regalare all'ospedale mettere in condizioni che l'ospedale possa acquistare un sistema di anestesia e che quindi immagino ci sia un miglioramento della nostra terapia intensiva veramente un grazie di cuore grazie grazie vi avevo detto 500 domande nella prima fase per il contributo di solidarietà alimentare di quelle 500 domande togli chi l'ha fatta due volte togli alcune cose sono rimaste 300 di queste 300 già 210 si sono potute evadere in queste giornate e per un totale di 75 mila euro quindi sono rimaste in stand by 90 di queste 300 per verifiche perché è gente che prende già altri contributi quindi si sta vedendo se non sono se rientrano in certi parametri che si possono ugualmente dare vi avevo detto che ieri sarebbe partito di nuovo la raccolta delle nuove domande con i criteri più allargati mi sono scusato ieri che non siamo riusciti ieri a farlo è partito il sistema questa mattina fino alle 18.30 in un giorno 1.005 domande 1.005 domande quindi il doppio delle domande è segno che questa ulteriore apertura dei criteri ha messo molti in condizione di poter fare la domanda nei prossimi giorni queste domande si possono ancora continuare a fare naturalmente è possibile farlo collegandosi sul comune sul sito del comune di Asti si entra nella pagina dedicata al coronavirus e c'è proprio la parte per ricevere il contributo si può fare da un telefonino è semplice se no si contattano i tre numeri che avete sempre lì a disposizione quindi oggi alle 18.30 dopo neanche una giornata 1.005 domande queste 210 famiglie che hanno ricevuto il buono anche qui per non farle venire in comune e fare assembramento si sono viste recapitare il buono spesa attraverso la Croce Rossa la Caritas e le protezioni civile nella maggior parte dei casi direttamente a casa quindi c'è stato un consegno a porta a porta in altri casi in una consegna capillare invitandoli in determinati luoghi a gruppo tenete presente che il grosso del lavoro che noi facciamo è anche dovuto ai controlli quindi non ci stiamo limitando prendere un'autocertificazione pagare poi qualcuno andrà a vedere noi prendiamo l'autocertificazione la controlliamo già subito al fine di essere tranquilli di che cosa stiamo facendo di dare dei soldi a persone che effettivamente ne hanno bisogno sicuramente qualche cosa scapperà sicuramente i controlli poi successivi ci diranno ancora delle altre cose però noi stiamo veramente facendo grazie ai nostri uffici un grande lavoro la categoria che ringraziamo questa sera poi andiamo ai dati non l'abbiamo ancora fatta in queste sere nonostante l'abbiamo citati più volte per dei servizi per le pensioni scaglionate direi che il ringraziamento va a tutti i dipendenti delle poste siano postini siano operatori di sportello non sono persone che hanno operato in condizioni alcune volte anche magari proibitive non si sono mai sottratti stress della gente agli sportelli o ai postini ma ci sono sempre stati e quindi hanno consentito con la loro attività di mantenere importanti servizi e di consentire a questi servizi di poter continuare i numeri vi risparmio a questo punto quelli nazionali per andare subito a quelli che ci interessano i nazionali sono positivi ci sono soltanto più purtroppo ancora 542 morti ma sono molto meno rispetto prima pensate nella giornata di oggi 542 morti 2099 guariti i guariti sono 4 volte morti si sta invertendo questo trend e anche questo è un dato che fa ben sperare i dati invece nostri mi sposto un po' più in là ci dicono che per quanto riguarda i decessi purtroppo Asti sale a 72 ieri eravamo a 62 questa era una notizia brutta che mi aspettavo perché nel pomeriggio mi sono già arrivati dall'anagrafe e mi sono arrivati delle informazioni dall'aslo che mi dicevano che da questo versante purtroppo non sarebbe stata una bella giornata quindi noi saliamo purtroppo a 72 decessi alle famiglie di queste persone come tutte le altre volte va la nostra vicinanza e le nostre condoglianze rimaniamo e questa è la magra consolazione la provincia in Piemonte con meno decessi relativamente invece ai contagi la città di Asti la città no la provincia di Asti sale a 646 vuol dire che da ieri a oggi in 24 ore ci sono 13 positivi in più è il risultato più importante e migliore davvero delle ultime due settimane eravamo già contenti di ieri che era 16 il giorno prima era 19 il giorno prima 28 il giorno prima 41 stiamo continuando ad andare sulla giusta strada i dati sono quindi confortanti una rondine non basta per dire però che è primavera sarebbe veramente tragico sedersi in questo momento ricordo sempre che c'è l'onda e quindi vuol dire perché ci sono tanti morti e stanno diminuendo i positivi perché ci sono prima le persone che stanno bene il primo stadio quello dei positivi che vanno crescendo di questi positivi alcuni si aggravano e purtroppo alcuni muoiono nel momento in cui l'onda dalla parte dei positivi inizia a scendere ci sono però i positivi di prima che devono ancora fare questi stadi una percentuale di questi aggravano e una percentuale di questi purtroppo muoiono quindi noi stiamo vedendo questa fascia dove continuano purtroppo dei dicessi e dall'altra parte stanno diminuendo l'aumento dei positivi mi raccomando le scelte fatte anche sulla Pasqua e la Pasquetta sono per cercare di finire questo periodo che con Pasquetta dovrebbe finire quello delle indicazioni delle restrizioni dei dpcm quindi romani e dei dispositivi normativi regionali nel migliore dei modi dicendo noi tutto quello che dovevamo fare l'abbiamo fatto e quindi se migliorerà la cosa perché ce lo siamo voluti conquistare io vi chiedo veramente sbagliate da altre parti sporcate la città dovremo ritornare a pulirla fateci girare le scatole in qualsiasi modo se però per voi stessi fate questo ultimo sforzo cercate di ragionare per consentirci di ritornare alla normalità il prima possibile sappiamo che non sarà normalità sappiamo che sarà un lungo periodo di molti mesi dove dovremo probabilmente continuare ad avere degli accorgimenti ma dove la vita dovrà poco la volta tornare a essere quella di prima cerchiamo di davvero impegnarci e non fidiamoci soltanto di questi dati di dire oggi con 13 positivi è la notizia più bella degli ultimi 14 giorni sono sicuro che insieme con la volontà di tutti ce la faremo grazie a tutti ci vediamo domani mattina con la diretta dal mercato della torretta alle ore 10 e mi raccomando condividete ciao a tutti